Fisicamente come stai? Sto benissimo, mi sento bene. Sei pronto per aver scelto il campo al primo minuto? Sì, assolutamente sì, sono pronto. Per la partita contro Frosinone si inizia a lavorare oggi. Da quando sono qui non abbiamo fatto tante cose tatticamente, però abbiamo allenato duro tutta la settimana. Sono stato pure un po' sorpreso a che tempo e a che livello di allenamenti stanno qui. Forse manco a Roma, manco a Pescara dove sono stato l'anno scorso. Non abbiamo lavorato così duro e questo mi piace tantissimo. Abbiamo possesso palla tutta la partita, mancava forse un pizzico di ignoranza davanti alla porta. non so se voglio essere il leader, voglio fare parte della squadra. Voglio aiutare la squadra, i miei compagni, questa società. Così me lo sento io, non voglio essere il leader, vedo solo io. però voglio che tutta la squadra fanno bene. È vero che forse il Bari ha subito un po' di più gol, però speriamo che anche questo cambia. Saremo noi che facciamo tanti gol ad avversario e subiamo il più o meno possibile. Io credo che forse due o una settimana alla fine del mercato sia così. È uscita questa cosa, poi ho parlato con il direttore sportivo e sono felice che sono qui. Come io sono difensore, a me piace giocare pure la palla un po', e poi di testa penso che non sono scarso, anche che sono un po' alto. È vero che mi hanno provato a giocare come terzion sia a destra sia a sinistra oppure davanti alla difesa, quindi anche se mi fanno giocare qualsiasi ruolo per me non è un problema. Ma io credo che a Roma questa esperienza mi ha aiutato tantissimo per la crescita pure come calciatore. E forse mi ha dato tanta esperienza, quindi credo che anche l'esperienza che posso sfruttare qui e posso aiutare la squadra e come si possono bloccare. Io credo che come tutti, tutti gli avversari, soprattutto si deve preparare bene e poi giocare il meglio possibile. Secondo me solo questo può aiutare, non è che ci puoi preparare ognuno, ognuno avversario. Secondo me tutti hanno qualità e saranno bravi, però speriamo che noi saranno più bravi di loro e vinciamo.